Buongiorno, questa è la ludoteca Bimbo Time che è aperto a inizio anno a San Giuliano Milanese, facciamo giocare i bambini in uno spazio accogliente e colorato e poi abbiamo inserito diverse iniziative, i bimbi possono giocare con i colori, quindi dipingere, giocare con la musica e quindi imparare a suonare uno strumento e tante altre attività che poi durante l'autunno e l'inverno verranno potenzializzate. Dove si trova? Si trova a San Giuliano in via Cavour, via Cavour 53 sotto il porticato, noi festeggiamo anche i compleanni che sono molto divertenti e sono a tema oppure si può concedere lo spazio e quindi la gente si autogestisce, prepariamo anche degli spettacolini tipo i burattini, la micromagia e niente, vi aspettiamo a curiosare il nostro spazio. Allora ciao a tutti, io sono il maialino Snurb! Snurb! Attenzione bambini, se io vincerò il concorso diventerò, diventerò...